Capitale della cultura Vitri Frigo Arena pronta all'Uverture Vallefoglia apri pista dei comuni capitali per una settimana A Cantiano Elish Line in visita nei luoghi dell'alluvione Salviamo i centri di cura per i disturbi alimentari manifestazione a Pesaro Arriva il servizio di consegna domiciliare di farmaci per malati cronici Buonasera a tutti voi pubblico di Rossini TV Ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News Telegiornale delle Canale 80 edizione di venerdì 19 di gennaio Apriamo il nostro notiziario occupandoci della cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale della cultura 2024 Mancano infatti meno di 24 ore all'Uverture alla Vitri Frigo Arena Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella E con l'impianto della torraccia che ha messo a punto gli ultimi preparativi Di una giornata, quella di domani, dalle rigide misure di sicurezza Vi ricordiamo anche le modalità d'accesso all'arena Con l'apertura dei cancelli che sarà alle 8 e consentita fino alle ore 10 I cittadini dovranno presentarsi muniti di tagliando digitale o cartaccio E dovranno obbligatoriamente esibire il documento di identità Per agevolare i controlli e favorire un accesso ordinato Si consiglia di raggiungere il palasport in anticipo rispetto agli orari di chiusura cancelli Per arrivare all'arena sarà attivo un servizio navetta dalle 8 e 30 Con corse ogni 15 minuti che partiranno dal parcheggio San Decenzio Da Piazzale della Libertà e Viale Trieste Come detto, attorno alle 11 comincerà la cerimonia inaugurale condotta da Paolo Bonolis Alla presenza del Capo dello Stato Mentre nel pomeriggio si canterà con Max Gazzè dalle 17 Si ballerà con l'orchestra di Mirko Casadei dalle 20 E poi la festa notturna Once a Year con Rosa Chemical dalle 23 con ingresso a pagamento E salvo controordine dell'ultima ora L'arrivo di Mattarella a Pesaro sarà preceduto da una rapida tappa del Capo dello Stato A bottega di Vallefoglia per il taglio del nastro del nuovo Teatro Giovanni Santi Ovvero un auditorium che sarà il fulcro di Vallefoglia come comune A prepista del progetto 50x50 capitali al quadrato Un progetto che vedrà a turno ognuno dei 50 comuni di Pesorbino Capitale della cultura per una settimana E dal 22 gennaio si comincia appunto da Vallefoglia Da lunedì 22 a domenica 28 gennaio Il comune di Vallefoglia taglierà il nastro del progetto simbolo di Pesaro 2024 Ovvero 50x50 capitali al quadrato Progetto che vede i 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino A turno capitale per una settimana lungo tutto il 2024 Sarà dunque Vallefoglia a rompere il ghiaccio con un programma dal titolo Questa bella ad erbe famiglia animali Una nuova armonia tra l'umanità e la terra Settimana da comune capitale che coincide con l'attesa inaugurazione del teatro Giovanni Santi di Bottega Che sarà auditorium per musica, cinema e teatro E sarà fulcro del programma di Vallefoglia capitale Noi siamo orgogliosi di aprire la prima settimana della capitale italiana della cultura Anche con l'inaugurazione di un nuovo teatro Ringraziamo il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci e il vice sindaco Vimini Per l'impegno anche ad incalzarci a finire in tempi utili per quella settimana il nuovo teatro Giovanni Santi Entrare per Vallefoglia una città industriale in una dimensione nazionale e internazionale Anche sul piano culturale passiamo da un piccolo teatro di 150 posti rimessa a nuovo Teatro Branca Sant'Angelista al teatro Giovanni Santi circa 340 posti Nel centro di un'area che ha quasi 50.000 abitanti Che insieme a Pesaro fa quasi 150.000 abitanti Ed è quindi un bel bacino anche per le attività culturali Che per la prima volta a Vallefoglia avrà un teatro per tutta quell'area per i comuni Che possono utilizzare anche i gruppi locali come i cori, i gruppi musicali, le bande Tutti quelli che fanno un'attività di base che per noi è estremamente importante Settimana da Capitale che avrà un gratificante antipasto istituzionale Nella mattina di sabato 20 gennaio Con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Al taglio del nastro del nuovo teatro Santi Mezz'ora prima dell'arrivo alla cerimonia della Vitri Frigo Arena Si verrà come pare un passaggio per il taglio del nastro anche al Presidente della Repubblica Che poi sarà a Pesaro nella giornata del 20 E per noi è un onore stratosferico Per me è il terzo Presidente che incontrerei Quindi sarei particolarmente contento anche di questo Una scelta credo azzeccata anche perché si è riuscito a far coincidere questa settimana Con l'apertura del teatro attesa da tanto tempo Che è stato un grosso investimento del Comune di Vallefoglia Un teatro da oltre 300 posti Che sarà un polmone artistico nei 12 mesi per tutto il territorio naturalmente E che diventa un grande protagonista della Capitale 24 Quindi un'occasione per ritrovarsi anche per gli altri Comuni Per studiare un po' le modalità di essere capitale E poi nelle settimane a venire di un giro che crediamo si arricchirà Delle esperienze reciproche e soprattutto distribuirà a livello territoriale L'entusiasmo, la partecipazione, la voglia di esserci La voglia di vivere come tutto un territorio provinciale Un'opportunità importante come quella della Capitale A sostegno del progetto di 50x50 Capitale al Quadrato Anche il supporto della Banca di Pesero Che sosterrà i programmi culturali del territorio A cominciare da Vallefoglia Un ruolo importante nella programmazione L'ha avuto l'orchestra Pilarmonica Rossini Svolgeranno il concerto d'apertura e di chiusura Che saranno gli unici due eventi alle ore 18 Il lunedì e la domenica Tutti gli altri eventi saranno serali alle ore 21 Sempre con l'orchestra Pilarmonica C'è un appuntamento di rilievo Con la presenza di Mirko Palazzi Un recital lirico-sinfonico Con un artista di livello internazionale Insomma un artista locale nato a Rimini Diplomato del Conservatorio Rossini Però ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo Poi tanto altro durante la settimana Un concerto di jazz Con Aldemaro Moltedo Jazz Band Quindi artisti, cantanti, musicisti di livello E poi la valorizzazione di artisti, compagnie locali Del territorio di Vallefoglia Ad iniziare dal corpo bandistico Giovanni Santi 170esimo anno di attività quest'anno Mentre il venerdì ci saranno i cantori della città futura Diretti dal maestro Bartolucci Che avranno una collaborazione col centro danza performance Che faranno una esibizione di danza classica Per chiudere il sabato c'è la compagnia dialettale del nostro territorio La compagnia teatrale dialettale improvvisando Che reciterà il fidanzato della fidanzata È un evento che rientra in un'iniziativa fita Che valorizza i dialetti marchigiani Sono 5-6 serate nel teatro di Sant'Angelo di Lizzola Il teatro Branca E con questo nuovo teatro Quindi l'amministrazione comunale di Vallefoglia Si dota di due teatri Uno di 150 e uno di 350 posti Quindi la programmazione culturale Che era prevalentemente estiva Diventerà una programmazione annuale E se si apre Pesero Capitale della Cultura 2024 Si è appena chiuso un altro evento di richiamo Culturale e turistico Di rilevanza assolutamente nazionale Parliamo del Natale che non ti aspetti Che oggi ha tracciato un bilancio Dei tanti eventi natalizi svolti dalle Proloco In tutta la provincia Bilancio che è stato presentato In una conferenza presso lo studio Corus Partner di Baia Flaminia È stato un Natale di successo Soprattutto per i volontari Perché noi grazie ai volontari Siamo riusciti a mantenere Un'identità del territorio Con un progetto unico nelle Marche Ma io direi un progetto unico nel centro Italia Dove siamo riusciti a catalizzare Quasi 300.000 turisti Grazie all'intervento degli enti pubblici Come la Regione Marche Ma grazie anche al sostegno Di soggetti privati Quindi di sponsor privati Che ringraziamo di cuore Per l'intervento che c'è stato A favore del territorio E a favore delle Proloco Noi siamo su 300.000 visitatori Abbiamo avuto 30.000 visite nel sito 2 milioni di like Quindi c'è un processo sempre più crescendo Di numeri che parlano da solo Noi siamo veramente orgogliosi Perché il nostro Natale Il Natale che non ti aspetti Dove ha racchiuso 22 borghi Vede impegnati tantissimi volontari Perché noi siamo oggi qui a presentare Dei numeri che hanno prodotto i volontari E oggi un grazie di cuore Anche a chi ci ha ospitato In questa bellissima sala Allo studio Cappellini Cesaroni Grazie veramente di cuore Perché ci permette di fare qualcosa di nuovo In sale nuove Sconosciute magari anche alla città Quindi sempre di più Dobbiamo innovare e fare cose nuove Ribadisco la questione dei volontari Perché in ogni caso sono più importanti Degli sponsor In quanto è molto più facile Tirare fuori i soldi Se uno o qualcuno un po' ce l'ha Rispetto che dare il proprio tempo Il proprio tempo ha un valore grande Nessuno può quantificare quello Ed è questo basato sul discorso della passione Quindi alla fine questo sistema Deve essere per me implementato Avere più risorse In modo che i volontari Possano avere anche qualche piccolo vantaggio Sicuramente è un brand ormai riconosciuto A livello di promozione turistica E anche a livello di destazionalizzazione I numeri che presentiamo oggi Sono numeri molto importanti Che dimostrano ancora una volta Quanto sia efficace Quanto sia importante questa iniziativa ConfCommercio la sostiene in maniera molto convinta Perché è sicuramente un progetto nuovo È sicuramente un progetto che sul territorio Porta economia E solo il fatto che le nostre attività Sono state sold out per un intero mese Più tutto il periodo di Natale Questo vuol dire che porta tanta economia sul territorio Per noi è importante come ConfCommercio Oltre 2 milioni di visualizzazioni Sulle pagine social 30.000 visualizzazioni sul sito del Natale Che non ti aspetti Migliaia di camper 300 pullman 4 treni speciali dedicati al Natale Quindi una grandissima manifestazione Sulla quale la regione Marche punta Grazie alla grande attività del Proloco Della provincia di Pesaro Urbino Grazie al lavoro di tanti volontari Che ricreano le tradizioni del Natale In oltre 20 borghi della nostra regione Con 100 manifestazioni E anche due importanti presepi viventi Che sono un grandissimo attrattore All'interno dei bellissimi borghi Della provincia di Pesaro Urbino Oggi la segretaria nazionale del Partito Democratico Ellie Schlein è stata in visita a Cantiano Per constatare l'evolversi dei territori Colpiti dall'alluvione di settembre 2022 Ospite del sindaco Alessandro Piccini La Schlein ha espresso preoccupazioni Sulla gestione degli aiuti E sul supporto fornito Dichiarando che le risorse attuali Sono insufficienti E non coprono nemmeno la metà Di quanto necessario Per i ristori a pubblico e privato Assieme alla segretaria regionale Del PD Chantal Bonprezzi La Schlein ha ribadito La necessità di una risposta tempestiva E adeguata Per sostenere le comunità colpite Scongiurare le dinamiche di spopolamento E prevenire future crisi simili Mattinata di mobilitazione oggi In Piazza del Popolo a Pesaro Dove c'è stata una manifestazione Per chiedere al governo Meloni Un maggiore impegno sulla tutela Dei centri dedicati alla cura Dei disturbi alimentari Palloncini Lilla Come Lilla è il messaggio di SOS Portato questa mattina In Piazza del Popolo Da esponenti del Partito Democratico Associazioni, Famiglie e Fondazione Fiocchetto Lilla Preoccupate dal futuro dei centri di cura Per il disturbo alimentare Dopo l'annuncio del taglio Di 25 milioni di euro per i centri E le conseguenti proteste Ieri il ministro Schillacci Ha previsto 10 milioni Con un emendamento al decreto Mille proroghe Ma questo non ha fermato L'adesione di tante piazze A livello nazionale All'iniziativa dal titolo Chiedimi come sto Una mobilitazione nazionale Per lanciare un appello al governo Meloni Vogliamo sostegno per i centri Dei disturbi del comportamento alimentare Le richieste dopo la pandemia Sono aumentate del 30% Purtroppo E quindi non è possibile ridurre Le risorse e gli investimenti In questi centri Noi in particolare A Pesaro A Galantara Stiamo vivendo una fase Difficilissima Perché negli ultimi due anni Sono iniziati A mancare Diversi professionisti Che hanno preferito Lavorare fuori Dalle marche Ed è per questo Che chiediamo Di investire In questo centro Oggi ci sono qua in piazza Genitori Di persone Che soffrono di disturbi Dall'anoressia Alla bulimia Alla vigoressia Ma anche Tanti rappresentanti Di associazioni Chi ha disagi dell'anima Che comportano I disagi alimentari Deve essere tutelato Deve essere tutelato Perché Non tutti hanno Le possibilità di curarsi Nel senso che Ci vogliono soldi Ci vogliono una famiglia Che ti accoglie Ci vogliono tante cose Quindi il servizio Di medicina Deve essere accessibile A tutti Silvia è una mamma Pesarese Che ha affrontato Con sua figlia Un proficuo percorso A partire dal centro Di disturbi Da comportamento alimentare Di Galantara Centro potenziato Nel 2017 Ma che nell'ultimo bienio Ha subito Un vero e proprio smantellamento Abbiamo avuto Una grande fortuna Di poter essere ricoverati Il 4 luglio Del 2022 Nel primo centro Delle marche Che avevano appena aperto Villa Oasia Monsano Ed è stata veramente Per noi un dono Mia figlia è rimasta lì 8 mesi Quindi un cammino Lungo Importante Difficile Di sofferenza Per Sicuramente Prima di tutto Per mia figlia E poi per la famiglia Un centro Molto competente Nel quale Venivano seguite Vengono seguite Perché ancora Logicamente È in funzione E spero che vada avanti In questo cammino Ognuno Dalle psicologa Dal nutrizionista Dalle psichiatra È un cammino Che va fatto giorno Per giorno Tutti i giorni Quindi domanda Mia figlia è uscita È un anno Fra due giorni Sarà un anno Che è uscita E siamo molto contenti Perché stiamo Continuando a crescere insieme A fare questo cammino Però non è un cammino Dal quale guarisci completamente Non c'è l'antibiotico ancora E l'antibiotico è Andare dai psicologi E lavorare insieme Continuare a non arrendersi E non solo la ragazza Ma anche la famiglia dietro Quindi vuol dire Un impegno economico Che non tutte le famiglie Possono permettersi E quello che noi chiediamo In questo momento Alla regione È di iniziare a mettere i fondi Per rafforzare Quello che c'è già Per rafforzare il galantara Che in questo momento è presente Ma è necessario che il personale aumenti Non è possibile sottovalutare Un tema che purtroppo Devasta la vita di troppe persone in Italia Circa il 5% della popolazione Ancora ad oggi Sta affrontando percorsi terapeutici difficili Ed è per questo che Nonostante il ministro Schillaci Abbia garantito Dopo l'annuncio della protesta I 10 milioni di euro Servono invece stanziamenti strutturali Per poter consentire di assumere Negli anni E non magari avere Uno psichiatra A cui una persona Affetta dai disturbi Si affide Inizia un percorso E poi rischia purtroppo Di perdere Interrompere Tutto ciò che ha iniziato Da notizie sanitarie Di preoccupazione A notizie sanitarie Confortanti Quelle che vedono Un proficuo lavoro Di squadra Tra azienda pubblica Associazionismo E volontariato Vediamo Il volontariato E l'azienda sanitaria Tendono una mano Ai soggetti più fragili Da qualche settimana È infatti partito Il servizio di consegna Domiciliare di farmaci Ai pazienti cronici associati Cui farmaci salvavita Erogati soprattutto Dalla farmacia Dell'Asti In via Alfano Struttura Che denota Problemi di accessibilità Segnalati All'associazione Piattaforma Solidale Che si è attivata Per un servizio Ben accolto Dall'azienda sanitaria E che ora Trova il braccio operativo Su scala provinciale Nei volontari Di Hauser L'associazione Che ha colto Per prima La richiesta Che veniva Da alcuni utenti Che si erano trovati In difficoltà Nell'andare A ritirare Farmaci Salvavita Fra un altro Non dimentichiamo Quelli che vengono Distribuiti Solo Dalla farmacia Dell'azienda sanitaria Quindi che non possono Essere reperiti Nelle farmacie Normali E avevano trovato Difficoltà Perché La struttura Che fornisce Questi Questi farmaci Aveva Dei problemi Di accessibilità Abbiamo cercato Di risolvere Il problema Contattando L'azienda sanitaria E Cercando Un accordo Anche con L'Hauser Perché Piattaforma solidaria Fa tante iniziative Ma Non ha Tanti volontari Che possono Possano poi Gestire i servizi O dare una risposta Concreta Allora Abbiamo immaginato Questa collaborazione Con L'Hauser Che andrà Oltre questo servizio E sarà una collaborazione Da tutto campo Per attivare Altre situazioni In tutta la provincia È già partito È già partito il servizio Ma dobbiamo ancora Definire alcuni Ambiti Operativi Però stiamo Dando le risposte Ai primi utenti Che hanno questa necessità È una cosa Che a noi fa molto piacere Come dicevo Perché Dà una risposta in più Alle persone In difficoltà Fragili Che in questo momento Sono quelli più Deboli E che hanno bisogno Di supporto In tutti i modi Ecco Noi un piccolo contributo Con i nostri mezzi Dei nostri volontari Lo diamo volentieri L'Ast Ha risposto In maniera Rapida E abbiamo Addirittura Sottoscritto Un protocollo D'intesa Per attivare Questo servizio Che partirà Dalle persone Che usufruivano Del servizio Di via Alfano Per poi Estendersi Anche Ai soggetti Che sono Da soli in casa Disabili Anziani Che In alcune situazioni Fanno difficoltà Di andare in farmacia A quel punto Interveremo noi Abbiamo già fatto Alcuni accordi Con loro In particolare Quello orientato Alla distribuzione Dei farmaci Al domicilio Per le soggetti Anziani Che non riescono Ad accedere Alle nostre farmacie E crediamo Che questo sia Il primo punto Di partenza Per una collaborazione Sempre più stretta Volontariato è importante Perché ci fa Da terminale intelligente Per rappresentare I bisogni Delle persone Più fragili E tramite loro Possiamo arrivare Proprio queste persone Più fragili Marche Multiservizi Ha terminato Ieri L'installazione Delle 17 Nuove Isole Ecologiche Informatizzate Per la raccolta Differenziata Nella ZTL Del centro storico Di Pesaro Che si aggiungono Alle 6 Già attive Da fine 2022 Le nuove Ecoisole Entreranno In funzione Lunedì 22 gennaio Mentre l'ultimo giorno Di raccolta Porta Porta Sarà sabato 3 febbraio Per due settimane Verranno mantenuti Entrambi i metodi Di conferimento De rifiuti Da lunedì 5 febbraio Invece i rifiuti Nel centro Potranno essere conferiti Soltanto tramite I cassonetti Intelligenti All'Ecoisole Si potrà accedere Solo tramite La carta Smeraldo E ieri Nella prima giornata Di distribuzione Già 600 utenti L'hanno ritirata Ed ora parliamo Di spettacoli E nel prossimo Servizio Andiamo a vedere Le immagini E ascoltare Le note Del grande concerto Di Claudio Baglioni Ieri sera Alla Vitri Frigo Arena L'antipasto Dell'inaugurazione Di Pesero Capitale della Cultura 2024 Viene servito Dalle emozionanti Note senza tempo Di Claudio Baglioni Che ieri sera Ha scaldato il cuore Di oltre 7000 spettatori Accorsi Nell'astronave Della Torraccia Bisero ha dato Il Vial Tour 2024 Di a tutto cuore Straordinaria Opera show Di enorme Forza musicale Che Baglioni Ha miscelato Con coreografie E con l'impatto Tecnologico Di un palcoscenico Tridimensionale Visionare Baglioni A 72 anni Ha entusiasmato Il pubblico Composto da Ogni generazione Di fan Sul palco I suoi classici Intramontabili Alternati Ai brani Dell'ultimo anno Uno straordinario Spettacolo Corale Con 100 persone Coinvolte nello show Fra coristi Ballerini Acrobati E i musicisti Della band Diretta da Paolo Gianoglio Per gli spettacoli Di Pesaro Un ottimo inizio Per un 2024 Davvero speciale Ed ora allo sport Ieri si è giocato Il derby pesarese Di Serie B Di basket Interregionale Nel turno Infrasettimanale Che ha visto L'Ital Service Loretto Basket Battere il Bramante 76 a 56 E raggiungerlo In vetta Alla classifica Grande prova Degli uomini Di Foglietti Che ora creano Un intasamento In vetta al girone Dove assieme All'Oretto e Bramante Ci sono anche Matelica E Golden Gas Senigaglia Proprio domenica Alle 18 Il Loretto Basket Sarà nella Tana Di Senigaglia Nel calcio 5 In campo Fra poco invece Alle 20.30 L'Ital Service Pesaro Al Pala Megabox Contro i campioni Della Fel di Eboli Nella pallavolo Impegno a Pinerolo Domani alle 20.30 Per la Megabox Vallefoglia In grande salute Mentre sarà Una domenica Rugby Che affronterà Alle 14.30 Sul terreno di Muraglia I Veneti Del Tarvisum Quarti in classifica Domenica alle 18.30 Impegno al Benelli Anche per la Vispesero Che dopo il successo Di Olbia Affronta la cararese Quarta forza Del torneo In Casavis Importante mossa Della società Che oggi ha ufficializzato Il prolungamento Di contratto Di mister Simone Banchieri Fino a giugno 2026 E alla stessa ora Della Vispesero Alle 18.30 Di domenica Giocherà in casa Anche la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Contro la corazzata Armani Milano Per Coach Sacchetti Sarà il debutto Sul parquet Pesarese Ascoltiamolo A margine Della conferenza stampa Di questa mattina Romeo Sacchetti Dimostrare Di giocare Di giocare Al limite Un qualcosa Di qualcosa di diverso Di essere anche In grado di stare Contro una squadra Così È stimolante Giocare contro Questo È difficile È più difficile Però stimolante Cioè Voglio dire Ci sono dei giocatori Ci sono dei giocatori Che certe volte Sentono questa partita In una maniera Impressionante E quando ci sono Delle partite Che qualcuno Snobba Portavo l'esempio L'altra volta Di Trevis Dina Che quando si giocavano Delle partite Sulla carta Facili Lui scherzava E tutto E poi noi Rischiavamo di perderle Però quando c'era L'impegno L'impegno importante Litigavo con lui Perché non volevo uscire Perciò voglio dire I giocatori tosti Vogliono anche Queste sfide Ultima cosa Scott Banford È pronto a rientro Però Dovrai gestirlo Col bilancino Credo Adesso siamo un po' In mano ai dottori Oggi farà qualche cosina Vediamo un pochettino Col preparatore Con i dottori La sua gestione Che è un po' La parte più difficile E si conclude qui Questa edizione Delle telegiornale Rossini News Prima di salutarci Vi ricordiamo La nostra prima serata Che in questo venerdì È dedicata Al teatro Vi riproporremo Una commedia Andata in scena Nelle scorse edizioni Del GAD AA Aspiranti assassini Commedia teatrale Della compagnia Dell'Anello Appuntamento Alle 21 e 20 Poi vi ricordo Che l'informazione Su Rossini TV Torna puntuale Domattina in diretta Alle 7 e 20 Con Buongiorno Rossini La segna stampa Che sarà condotta Dal nostro Antonio Astuti E poi vi ricordo Ancora L'appuntamento Con la nostra Diretta Dalla Vitri Frigo Arena Per quello che riguarda La cerimonia Inaugurale di Pesaro 2024 Capitale italiana Della cultura Grande evento Che vi trasmetteremo Live sul canale 80 E in diretta Sulla nostra pagina Facebook A partire Dalle 10 e 45 E dunque Non perdetevi Anche questo Appuntamento Domattina Sulla nostra Emittente Si conclude Invece qui Il nostro Telegiornale Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata E un buon weekend In compagnia Dei nostri programmi